Ragazzi, ragazzi, potenta, par ragazzi, qua è Xolo, gioia di Galadosi, sono da sol, come potete sentire sto un po' meglio, ho solo ancora un po' di raffreddore, mi è venuta all'utita, infatti non ci sento più dall'orecchio, però tranquilla, febbre e se ne è praticamente tutta andata E guardate un po' cosa ho appena visto, che nei pacchetti speciali, ci sono i pacchetti da 50.000 crediti, noi ne andremo ad aprire due, sperando di trovare un altro Team of the Season, perché come noi ben sappiamo in questi giorni ne ho trovati pochi, quindi via col primo pacchetto Oh my god, chiudiamo gli occhi Io chiudo gli occhi, eh Oh mio Dio, non ci credo, non ci credo, un altro, un altro e un altro, io ragazzi vi sto per dire che questo pacchetto l'avrei caricato solo nel caso in cui avessi trovato un altro Man of the Season Team of the Season, perché appunto avevo in mente di fare stasera, se non domani mattina, un wager match con un macello di cose, cioè di tutto e di più, di perre del diviso E quindi, era proprio così, avevo pensato, non riesco anche più a parlare, ma sì dai, se troviamo qualcosa lo carichiamo e troviamo un altro Team of the Season, quindi conserviamo tutto nel... no, vabbè, conserviamo questi, questi fanno abbastanza schifo Li andiamo a vendere Oh mio Dio, e andiamo ad aprirne un altro, trovate un altro Team of the Season, questa qua posso chiamarla settimana del Team of the Season, chiudiamo ancora gli occhi e vediamo se ne troviamo un altro Mannaggia, no, ho detto troppo Cool Vabbè, vabbè, oh chi sei, fotte sega Frega in caso, abbiamo trovato un Team of the Season, consigli Ragazzi, datemi altri consigli su questo video Ha, ha, che bella battuta Comunque, sono strafelice, adesso io avevo in mente appunto di caricare questo wager match che appunto Stavo per, o meglio, avevo intenzione di fare questa sera Domani, quindi è perfetto Oggi vi carico pure questo video e siamo a postissimo Così ho anche la scusa magari di farlo domani e di caricarvelo domenica Si vedrà Comunque ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia facciuto un altro pack opening Se non vi faccio il pack opening, mi spiace, ma vi posso sicurare che dal prossimo video Tornerò un attimo a fare un wager match, poi appunto Se riuscirò a vincer con il wager match è anche un pink pale Ma lo farò anche, credo, se appunto io non lo riesca a vincere Comunque, come ho già detto, si vedrà E quindi, detto questo, vi saluto e vi dico potente a palazzi e nel prossimo video Bolla!